Manuela, Marzi, ma ci pensate? Abbiamo fatto un recupero eccezionale, niente meno che abbiamo recuperato la sede di Napoleone Bonaparte. Che soddisfazione! E' vero, è vero. Un reperto di una importanza mondiale. E' vero, è vero. E' giusto, è giusto. Essi non ce l'hanno mostro, ammalaglio, quando ce l'hanno? Mamma mia Carmen, che stanchezza, che stanchezza, voglio veramente essere di un egoismo esagerato. Ti mi hanno fatto a me sul mercato con 30 kg dei borsi in mano, che nessuno vuoi che mi avessero dato una mano. Sono cacciato che non ce la faccio neanche più a salderti. Ah! Che succede? Ho avuto combinato! Mamma mia! Che è successo? Ma cosa avete fatto? Non mi pagherei, che c'è fatto? Mi danno troppo grande. Veramente, che c'è fatto? Adesso è stato ancora un passeggio di Napoleone Bonaparte. E che fanno? Che bene mi sono sacciato!